e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo finalmente nel dodicesimo episodio di steve in wonderland undicesimo o dodicesimo no scusate questo non è minecraft che succede ragazzi non sto capendo niente un secondo questo non mi pare minecraft non è minecraft questo mi sembra un fps di minecraft e non minecraft e questo potrebbe essere un problema signori quindi siamo su minecraft fps come vogliamo chiamarlo su block storm esattamente ragazzi block storm è un minecraft fps e questo è l'undicesimo episodio di steve in wonderland che però cambia un pochino perché ci troviamo su dei campi di battaglia contro altri giocatori ringrazio intanto mickey per avermi fatto scoprire questo gioco che è molto carino simpatico dalla grafica semplice però divertente io non sono ancora molto bravo soprattutto quando registro divento ignorante nel ecco lo vedi ecco che mi ha sparato ovviamente devo un attimino riprenderci mano perché da un po' di gioco che non gioco molto a questo gioco che è block storm quindi proviamo a combinare qualcosa di carino allora intanto questa qui è una mappa molto difficile diciamo per me molto compositiva quindi di tosta perché appunto non sono un esperto in questo gioco ancora come vedete ci divertiamo lo stesso ho questa arma che spero sia buona non conosco ovviamente le armi che mira ragazzi devo un attimo il tasso per lanciare granate è la g e ho pillato migli ma in realtà lui lo conosco mi ha fatto vincere perché sa che sto registrando quindi grazie 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 ma la soddisfazione non è come non è reale ecco mi ha pure mi ha killato ovviamente il silenzio il silenzio perché noi facciamo spawner come si chiama eccolo mi ha scoperto è sempre lui è Mickey l'ho killato porca miseria vieni ragazzi non ho mira devo imparare a centrare l'obiettivo sempre no? bestia 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 si 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 e ci siamo siamo entrando in partita siamo entrando in partita ormai siamo entrando in partita 3 kill una cosa bestiale kill 3 kill e 5 morti si 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 buono buono siamo entrando in partita si vede si vede perché ovviamente siamo molto bravi la mia edizione era in AFK ma io comunque ne approfitto non è che lo so guardare fermo eh che cavolo è vediamo il replay assurdo assurdo proprio assurdo poi botte eh ma dillo 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 chi è? chi è? chi è? Mickey eh non l'ho visto proprio ragazzi non l'ho proprio visto ma ragazzi non andava più la tassiera non andava più la tassiera ecco l'ho visto l'ho visto l'ho visto uno che salta chi spara riesce a puntarlo io questa abilità ancora non ce l'ho purtroppo adesso vediamo un attimino di sbloccarci di sbloccare questa partita siamo terzi 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 un risultato che io ragazzi non 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 immaginavo soprattutto registrando divento uno stupido eppure questa volta mi sto trovando bene vediamo un attimino di combi che cosa è successo? mi sono disconnesso ci siamo disconnessi così disconnessi e ora come faccio? alt tab qualche frazione di decimi ecco io non ho la mira non ho la mira non ho la mira ok siamo entrami in partita siamo terzi siamo terzi siamo terzi questo è mio è mio è mio è mio no non è mio ma va che serve le munizioni non lo so no ragazzi no ragazzi sono morto cioè ragazzi mi sono fatto male da solo mi stanno inseguendo sono sicuro questo ha fatto due kill ha fatto ha fatto due kill tra cui me eh vedi che uno ogni tanto ne esce di kill no? almeno uno ogni tanto amo i miei kill ma prima che vado a prendere il suzzanio sono sicuro sono sicuro sono sicuro sono scoperto sono scoperto niente niente qualcuno mi sta fanno le botte qualcuno mi sta fanno le botte ragazzi non so se stare vedendo che kill sto facendo ma non dirmi voi mannaggia amici mannaggia amici tutti se le sa fa amici tutti con quella spada io devo imparare devo tenere l'indice su e in modo che quando c'è qualcuno vicino ecco l'ho fatto adesso che non serviva mannaggia amici mi hanno lanciato una bomba mannaggia a loro è mickey 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 no ma adesso la mia missione è uccidere mickey la mia missione è uccidere mickey è primo poi questo sta troppo detto eh sì eh sì eh proprio headshot vediamo il replay vediamo il replay guarda che headshot sì 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 buono buono no 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 non è vero non è vero non è vero ho finito le granate ho finito le granate mannaggia amici niente questo errore non lo farò mai più mickey mannaggia amici non ho killato nemmeno uno io premo il tab no per vedere la mappa e ovviamente la posizione e ovviamente mi uccidano è normale questo è buonissimo finalmente assist ma come l'ha contata come kill come assist mamma mia ma è una gioia sono secondo no basta guardare la classifica basta guardare la classifica guardiamoci piuttosto intorno è questa classifica sempre attaccati ai numeri basta no devo rifericare no ma no potevo premere e accoltellarla invece no devo ancora comunque sto entrando sempre di più nella logica vediamo di fare una partita decente questa volta ancora che premo tab sono fissato da qui sopra è una bellissima vista assist preloading mickey no questo non è mickey no 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 per pochissimo per pochissimo mannaggia mickey mickey vedi mi ha visso non si è fatto vedere si è venuto da me è venuto ok ora so so di nuovo sul punto di prima quindi quello alto se qualcuno mi viene lo sento e lo uccido l'ho ucciso l'ho ucciso chi è chi? miei mamma mia che mira mi sa che ce l'avranno con me quando si metti di camperare è un gioco anche quello prima cosa e seconda cosa era la prima volta che lo facevo o comunque tentavo per vendicarmi di mickey però come vedete forse non è il mio punto forte spaunare anche perchè l'indichillo ugualmente o comunque ogni tanto ci riescono ok una è fatta un attimino di tempo per riprendere vita reloadiamo non pensiamoci facciamo come se fosse il gioco normale assist niente quando muore subito vuol dire che ha già qualcosa di vita e quindi assist giustamente annaggia arrow è forte sta andando bene eppure è dopo di me in classifica vabbè che cosa ho fatto terzi siamo terzi terzi questa vittoria la dedico a me stesso terzi meritatissimi meritatissimi è stato un po' tosticchio però ci siamo riusciti siamo terzi vediamo la prossima partita l'ultima partita vediamo un po' come viene e cerchiamo di fare qualcosa di diverso magari adesso metto un'altra mappa diversa mappa totalmente differente bene con quest'ultima morte ragazzi io vi saluto e vi ringrazio per la visione spero vi sia piaciuto questo minecraft in fps si chiama blockstorm le mappe che avete visto sono solamente una e quest'ultima mappa però ovviamente ci sono altre mappe che vedremo nei prossimi episodi a sorpresa faremo dei episodi dedicati completamente a minecraft sempre steaming wonderland e poi sempre steaming wonderland però su blockstorm sempre di tema minecraft però diversi un po' diversi anche perché si spara è tutto di proprio un altro completo un altro gioco un'altra mentalità una bisogna tutta spero che questo video vi sia piaciuto quindi lasciate un mi piace e fatemi sapere tra meno un commento cosa migliorare e cosa no spero di aver parlato abbastanza durante questo video altrimenti risulterà noioso spero comunque di averlo reso più simpatico possibile con le musiche e editing ragazzi vi saluto ancora i miei ki per questo fantastico gioco che tra l'altro si paga ma che io tramite un concorso ho ricevuto la game per il sim gratuitamente e soprattutto i miei per avermi fatto giocare la partita è sua e tra l'altro per avermi fatto trovare questo gioco faremo due anni a metà quando questo video avrà 10 100 mila visualizzazioni quindi qui 10 euro ce li prendiamo 5 e 5 così che io ci ho frongelato grazie a tutti